Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere una partita di Neiman appena giocata contro il giocatore leggendario Ivanchuk. Torniamo quindi a seguire le avventure di Neiman e ciò che posso dirvi è che sta giocando ad un livello stratosferico e sta recuperando posizioni nella classifica mondiale alla velocità della luce. Ora si trova a 55esimo al mondo e un Neiman così non puoi fermarlo. Prima di iniziare ricorda a tutti di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo. Ok eccoci qui, Neiman affronta con i pezzi bianchi Ivanchuk. Siamo al torneo della pace che si sta svolgendo in questi giorni in Croazia. Neiman apre con pedone e4. Ivanchuk risponde con e5. Segue cavallo f3, cavallo f6. Rientriamo la difesa Petrov. Sistema molto solido adottato dal nero contro e4 dove la percentuale di pareggi è molto alta. Vediamo come se la cava Neiman. Neiman continua con cavallo per e5 e guadagna un pedone. Ivanchuk gioca la mossa migliore, pedone d6. Neiman ritira il cavallo in f3 e dopo cavallo per e4 segue pedone d4. Rientriamo nella variante principale della difesa Petrov. Ivanchuk spinge il pedone in d5 e Neiman gioca al fiere d3. Tutte le mosse migliori. Come vedete nella difesa Petrov la struttura pedonale che si viene a creare è una struttura simmetrica. Quindi diventa molto difficile creare degli squilibri per poi ottenere vantaggio. Ivanchuk continua con cavallo c6. Anche lui gioca la mossa migliore. Neiman arrocca, mette il real sicuro. Segue al fiere 7 e il nero si prepara ad arroccare. Neiman continua con cavallo d2. E dopo cavallo per d2 rientriamo in questa posizione dove Ivanchuk è preparatissimo. poiché ha già battuto Kramnik a tempo lungo però giocandola con i pezzi bianchi. Ma potete immaginare che i due sono molto preparati no? Neiman invece non ha partite in questa posizione. Segue al fiere per cavallo in d2. Al fiere g4. Ivanchuk inchioda il cavallo, attacca la donna a raggi x ed è pronto a catturare in d4 con il cavallo. Segue pedone c3. Neiman difende. E Ivanchuk arrocca, mette il real sicuro. Neiman continua con h3, interroga l'alfiere. L'alfiere si sposta in h5 e Neiman gioca pedone g3. Pedone g3 è la mossa migliore del motore. Neiman quindi si conferma essere uno specialista nella conoscenza delle aperture. E' bravissimo. Segue donna d7 per Ivanchuk. Ivanchuk collega le torri, finisce lo sviluppo e attacca il pedone in h3. Neiman difende con re g2. Arriva al fiere g6. Il nero offre il cambio degli alfieri campo chiaro. E Neiman sviluppa l'alfiere in f4. Chiaramente difende l'alfiere campo chiaro con la donna. Segue alfiere per d3, donna per d3, alfiere d6. Quindi il gioco inizia a semplificarsi. Però in questo caso Neiman non cattura in d6, ma gioca cavallo g5. Minaccia scacco matto in una mossa in h7. Ivanchuk difende con pedone g6 e arriva alfiere per d6, donna per d6, torre 1. Vedete? Molto semplice. Neiman prende il controllo della colonna E. L'unica colonna aperta nella posizione. Ivanchuk fa lo stesso. Gioco a torre 8. E qui come continuare? Cosa fare? Neiman continua con h4. Ha in mente un bel piano. Questo piano consiste nel spingere il pedone in h5, aprire la colonna h e venire con la torre in h1 per cercare di attaccare. Ivanchuk qui ritira il cavallo in d8. Quindi si preoccupa subito del piano di Neiman e vuole giocare cavallo e6, cambiare i cavalli per alleggerire la pressione sul re. Ci sta, no? Neiman continua con h5. Vuole aprire la colonna. Ivanchuk continua con cavallo e6, ovvero il suo piano. E Neiman ritira il cavallo in f3. Non accetta di cambiare il cavallo. Questa è un'ottima decisione in questo caso. Perché? Perché se avesse catturato in e6, sarebbe seguito a torre per e6 e il nero poteva mettere a posto le torri. Dopo torre per e6, torre 8, il nero avrebbe avuto il controllo della colonna E. Quindi Neiman non cattura per questo motivo. Segue pedone c6. Ivanchuk consolida la posizione. E Neiman continua con torre h1. Vedete, aveva già in mente questo piano quando ha giocato la mossa h4. Poi h5. E ora torre h1. Posizione giocabile da entrambe le parti, ma il bianco inizia a mettere pressione. E Ivanchuk qui inizia ad andare nel pallone. Gioca pedone g5. Pedone g5 è una buona mossa, ma il nero inizia a scoprire troppo il suo re. Ovvero, dopo cavallo e5, pedone h6. Ora, come vedete, ci sono diverse debolezze qui intorno al re del nero. E Neiman cerca anche di entrare di donna. Gioca donna f5. Quindi, effettivamente, il bianco non sta riscando nulla. Il nero, qualcosina, sì. Allora, Ivanchuk gioca cavallo g7. Attacca la donna. E Neiman entra di donna in d7. Propone il cambio di donne. Perché? Perché dopo, ad esempio, donna per donna, segue cavallo per. Con l'idea di giocare cavallo f6 scacco. E di ottenere il controllo della colonna e. Ivanchuk decide di catturare. Segue appunto cavallo per donna. Torre per e1. Cavallo f6. Questa è una mossa importantissima. Una mossa intermedia. Prima di catturare in e1. Neiman sta dando scacco. Sta controllando la casa in e8. E sta difendendo il pedone in h5. Questo pedone, come vedete, è attaccato dal cavallo. Quindi, dopo lo scacco, il nero si sposta in h8. E arriva torre per torre. Guardate che bella posizione che ha ottenuto qui Neiman. In pratica, Neiman ha due pezzi attivi. La torre e il cavallo. Il nero ha due pezzi passivi. Quindi, il bianco sta già meglio posizionalmente. Questa è una partita dove Neiman non rischia mai niente. Gioca veramente a un livello altissimo. Segue cavallo e6 per il nero. Neiman gioca a torre 5. La mossa migliore del motore. Pedone a5 per Ivanchuk. Cavallo in g4. Neiman attacca in h6. E dopo re h7. Neiman gioca a torre f5. Ora vi faccio vedere come Neiman calcola bene le varianti. Ivanchuk gioca a re g7. Neiman entra in f6. Gran calcolatore Neiman. Attacca in h6. Vi torna? E allora Ivanchuk difende. Gioca a torre h8 per difendere h6. Neiman continua con a4. E arriva a pedone b6. Pedone b6 è un'altra imprecisione da parte di Ivanchuk. E possiamo capirlo anche. Perché in pratica dopo b6 il pedone c6 diventa debole. Ma da cosa è attaccato il pedone c6? Dalla torre. Vedete la torre attacca a raggi x il pedone c6. E se il cavallo dovesse essere spostato questo pedone cadrebbe. E infatti Neiman gioca a pedone f4. Con l'idea di giocare f5. E Ivanchuk qui inizia a fare confusione. Segue pedone per f4. Pedone per f4. Torre c8. Ecco questo proprio è un gravissimo errore da parte di Ivanchuk. Però effettivamente non era semplice difendersi in questa posizione. Non so se avete mai sentito parlare del principio delle due debolezze. In pratica se crei due debolezze nella posizione dell'avversario. L'avversario spesso fa molta fatica a difenderle entrambe. Quindi il principio delle due debolezze è un principio che viene utilizzato per poter passare in vantaggio. Quindi Neiman è stato veramente molto molto bravo. Ivanchuk allora decide di difendere il pedone c6. E Neiman gioca f5. Attacca il cavallo. Il cavallo si sposta. Segue torre per h6. Neiman guadagna un pedone. E ha posizione completamente vinta. Può sembrare ancora complicata questa posizione. Ma intanto la torre del nero è confinata qui. Deve assolutamente difendere. La torre del bianco è più attiva. E ora il bianco può anche attivare il re. Può anche attivare il cavallo. Vediamo cosa succede. Ivanchuk gioca cavallo e4. Neiman continua con re in f3. Vedete Neiman attiva il re. È importante attivare il re nei finali. Segue torre c7. E il nero non può fare nulla. Può solo attendere. Neiman gioca re f4. Ivanchuk salta con il cavallo in d2. E Neiman gioca torre d6. Ora la torre in d6 è molto più attiva ad esempio. E intanto non è attaccata dal re nero. Segue cavallo c4. Ivanchuk attacca la torre e attacca il pedone in b2. Ma Neiman gioca semplicemente pedone h6 da scacco. E dopo re h7 gioca torre d8. In questa posizione Ivanchuk decide di abbandonare. Ma come abbandona in questa posizione? Sta attaccando il pedone in b2. Perché abbandona solo un pedone in meno? Ivanchuk decide di abbandonare perché ad esempio vi faccio vedere una variante. Su cavallo per b2 segue re in g5 con scacco matto forzato a seguire. In pratica il bianco sta minacciando cavallo f6 scacco matto. E il nero non può fare nulla per difendersi. Quindi dopo ad esempio f6 scacco segue cavallo per f6 scacco matto. Quindi Neiman gioca una partita meravigliosa. Una bellissima partita dove non rischia assolutamente niente. Guardate la prestazione di Neiman in questa partita. Zero imprecisioni. Zero errori. Zero errori gravi. 98% di accuratezza. Ma voglio dire più del 98% l'Icess non ti dà. Quindi qui possiamo anche affermare 100% di precisione. Perché no? L'Icess non è come chess.com che ti mette anche il 100%. Ti mette al massimo 98% credo. Ma qui Neiman ha giocato semplicemente la partita perfetta. Un fenomeno. Sta giocando sempre meglio da ciò che vedo. E mi sa che questa volta fa seriamente. Avete visto? Ha recuperato un sacco di posizioni nella classifica mondiale. Sta dominando in quel torneo. Ora vedremo le prossime partite. Grazie a tutti per la visione di questo video. Vi ricordo di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima!